Il progetto è un progetto speciale perché c'è qualcosa in me che ha questa caratteristica e questa sensazione di soul che connesso veramente con, qualcosa di primitivo e molto autentico. Io ho pensato di raccontare la traduzione salentina musicale e di interpretarne l'energia primaria, originaria. E' una delle musiche guaritrici. Dior ci dà la possibilità di raccontare questa nuova donna che balla la pizzica e che è una donna che sta bene nel mondo e sa far stare bene tutti quelli che la circondano.